E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Ora qui, alle rovine perdute, dobbiamo fare la corsa trofeo. Siamo nel Tempio Tiger e dobbiamo tentare in tutti i modi di vincere il sesto trofeo. Lo sapete che gioco è questo? Questo è Crash Team Racing Nitro Fueled della vostra PS4. Mi piace da impazzire perché è un bel remake, meglio della PS1. E poi questo gioco fa per me perché Crash Bandicoot e i suoi amici e nemici si sono messi in testa di fare una gara sportiva. Colpendo la porta con le vostre armi trovate la scorciatoia e guadagnate il trofeo. Quando avete un potenziamento, usatelo premendo il tasto cerchio. Però qui al Tempio Tiger possiamo notare anche gli indigeni. Però questa è una notte buia e tempestosa e poi è anche piovosa. Si vedono anche dei fulmini. I posti con la fioggia non fanno per me. Questo è il miglior gioco di corsi automobilismo che mi piace. Altro che Need for Speed e Gran Turismo. Ne abbiamo fatti tanti di giochi di corsi automobilismo. Mio padre faceva Gran Turismo. Mio fratello Alex Costa faceva Need for Speed e lui ne andava matto. Io sto facendo questo. Bene, ultimo giro. Concludiamo questa spettacolare pista Tempio Tiger. Avete visto? Le scorciatoie sono importanti per fregare i concorrenti e fregare gli avversari. Bene, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi al canale. E ricordatevi che abbiamo vinto il sesto trofeo in questa modalità avventura di Crash Team Racing Nitro Fueled. Caspita, stiamo vincendo trofei a tutto spiano. Capite ragazzi? Presto diventeremo campioni del mondo dopo aver raccolto tutti i trofei. Adesso siamo a 6. Non so quanti ne mancano. Ma lo scopriremo presto. Mi fa piacere che in ogni video che recensisco mi seguite sempre. Bene, abbiamo parlato di intro. Vi saluto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto condividetelo. Ditelo agli amici. Fate iscrivere anche loro. Però sbrigatevi. Bene, un ciao da Gabriosta, un saluto. Grazie a tutti per la visione. Noi ci vediamo al prossimo video.